Rieletto sindaco di campagna Roberto Monaco con 6.303 preferenze pari al 59,80%, indietro Andrea Lembo 3.298 con i 31,29% e Virginia Lungo 939 voti con l'8,91%. A Pellezzano Francesco More nuovo sindaco con il 58,54% dei voti. Ha battuto Claudio Marchese che si ferma al 41,45%. A San Mango Piemonte Francesco Di Giacomo. A Montecorvino Rovelle il primo cittadino eletto è Egidio Donofrio che ha staccato Egidio Rossomando. A Calvanico Franco Gismondi con l'83,74% dei voti ha battuto Diamante Gismondi. Invece ad Aquara neosindaco è Antonio Marino. A Giungano è primo cittadino Giuseppe Orlotti. I riconfermati è Antonio Forziati a Castelcivica, Rocco Giuliano a Polla e Luigi Manzi a Scala. A Rocca Gloriosa vince Giuseppe Balbi. A Perito è sindaco Carlo Cirillo. Dopo ritardi e controlli per un telefonino in una sezione, lo spoglio di Olevano sul Tusciano incorona sindaco Michele Volzone. Per lui una riconferma. A San Manco Piemonte il sindaco è Francesco Di Giacomo. Il sindaco di Atena Lucana è Luigi Vertucci. Vince in volata Nicola Padula, sindaco di San Gregorio Magno che supera per poco più di 100 preferenze Onofrio Grippo. Ed ancora Oscar Rimbieco si impone all'Aviano. A Novi Veglia vittoria di Adriano De Vita, Romagnano al Monte. La fascia tricolore è di Giuseppe Caso. A San Gregorio Magno il nuovo sindaco è Nicola Padula. La fascia tricolore è di Giuseppe Caso.